Qui c'è una parte di Reggio che rivendica la casa, il 5 ci sarà questa protesta perché facciamo volantinaggio per invitare la cittadinanza a venire a partecipare all'amministrazione, dal basso noi riteniamo che dal basso si possa fare tanto, visto che l'amministrazione in 5 anni non ha realizzato una politica della casa decente per dare una risposta a chi ha bisogno della casa, lo facciamo noi dal basso. Quindi il 5 ripetiamolo, a che ora? Dalle 9 e mezza in poi c'è questa manifestazione per chiedere che il comune attualmente faccia quello che non ha fatto in 5 anni, cioè dire verifiche, portare avanti la petizione di 11 milioni e tutto il resto, la manutenzione, i cambi alloggio, tutto quello che riguarda la politica della casa e che purtroppo non è stata fatta. Va bene, ci vediamo giorno 5, grazie. Grazie.